Un caro saluto ai nostri telespettatori e benvenuti al consueto spazio dedicato all'informazione di Puglia TV che apriamo con le anticipazioni di cronaca. Bomba al postamat del rione Sant'Elia nella notte un ordigno ha fatto saltare lo sportello esterno ma i banditi sono fuggiti via a mani vuote perché è entrato in funzione il macchia soldi. Sul posto i vigili del fuoco di Brindisi, la scientifica e i carabinieri. Sull'accaduto indagano le volanti della questura di Brindisi. Linea alla regia c'è la pubblicità, vi aspetto in studio con tutte le altre notizie. Grazie. 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 Grazie.